ben 70 anni fa l'11 maggio del 1945 durante alcuni lavori di ristauro nella cripta della cattedrale avveniva il ritrovamento delle reliquie di santimoteo discepolo di san paolo e ieri con una grande festa religiosa termoli ha omaggiato come ogni anno il suo santo compatrono e per l'occasione a rendere omaggio alla figura del santo c'era anche il cardinale angelo comastri arciprete della basilica di san pietro e vicario di papa francesco per la città del vaticano tantissimi fedeli che hanno assistito prima alla celebrazione della messa e al solenne pontificale e dopo la processione che si è snodata lungo le vie centrali della città presenti anche le autorità sia civili che militari la festa del santo è particolarmente sentita dai termolesi ancora oggi qualche nonno conserva il ricordo lucido di quanto accade 70 anni fa con il ritrovamento delle reliquie del santo A presto!